Ciao ragazzi, vediamo questo nuovo video Allora parliamo che domani sera Abbiamo una partita contro il Lecce a Lecce Ok? Io penso che la Juventus voglia entrare Nel Guinness dei record Perché Con nove infortunati Di giocatori Tutti capabili Titolari Io penso che non si è mai visto una cosa del genere Non si è mai visto Quindi la Juventus sta tentando di fare questo record Dice almeno Abbiamo un premio Per i giocatori infortunati Siamo arrivati a nove giocatori Infortunati Ragazzi, nove giocatori sono tantissimi Sono tantissimi Savona, l'ultimo che si è fermato McKennie, Bremer, Cabal Douglas Luiz, Vlaovic, Nico Gonzalez Milik, Adic Sono nove ragazzi Non mi ricordo Che una squadra abbia avuto Diciamo una squadra Quasi Fuori per infortunio Di cui qualcuno Sappiamo che è stagione finita Qualcuno che dovrebbe entrare E qualcuno Entrerà Non si sa Perché anche lì ragazzi Non abbiamo tempi certi Ripeto Giocatori come Douglas Luiz E Nico Gonzalez Che sarebbero dovuti entrare Già un mese fa Allora andiamo E' attenuante Entrare per la partita Con il Milan Niente ragazzi Non si vedono più Poi so se avete visto Il video che ho fatto Ieri pomeriggio Riguardante Douglas Luiz Che avrebbe chiesto L'accessione A gennaio Ci si mette anche Questa cosa qua Ed ecco qua Che non abbiamo Giocatori Giocatori disponibili In panchina Per subentrare Perché Ora siamo arrivati A 13 giocatori Di movimento Significa che Possiamo fare Massimo due cambi Più il portiere E alla fine Motta Ora si è deciso Di chiamare anche I giovani Della next gen E primavera Addirittura Come sempre Vi invito a mettere Like a questo video Iscrivetevi al canale Commentate Condividete il video Con i vostri amici I vostri colleghi di lavoro E i vostri parenti Allora ragazzi Vediamo meglio Qua La Juventus Il clima in casa Juventus È tutt'altro Che sereno In vista Della trasferta Lecce Appunto Le ultime notizie Riguardanti I nuovi infortunati Della squadra bianconera Non fanno Ben sperare E la possibilità Di vedere Molti di loro In campo Nella prossima partita Appare sempre Più remota Come vi dicevo I giocatori Sono nove Senza farvi Di nuovo La lista E nessuno di questi Secondo le ultime Informazioni Dovrebbero essere Disponibili Per la sfida Contro il Lecce Poi ragazzi Io voglio dire Vorrei fare Un raffronto Con un altro giocatore Di un'altra squadra Perché anche lì Si fa capire Che c'è qualcosa Che la Juventus Va o anche Dal G-Medical La situazione è critica Con solo i 13 giocatori Di movimento A disposizione Tiago Motta Rischia di dover Affrontare La partita Con una formazione Ridotta Il pesante numero Di infortuni Mette a dura prova La squadra Con il tecnico Chiamato A gestire al meglio Le risorse A disposizione La Juventus Dunque Si prepara A una trasferta Molto difficile Ce n'è consapevole Che la carenza Di uomini A disposizione Potrebbe anche Influire Sulle scelte tattiche E sulle possibilità Di successo Contro un Lecce In gran forma Anche qui Sto da mettere in conto Gli occhi Sono puntati Sul recupero Miracoloso Dell'ultimo minuto Ma il pessimismo È palpabile E le probabilità Di vedere Una rosa Al completo Sono ormai Minime Prima di passare Al giocatore Di cui vorrei parlare Diciamo Che c'è qualcosa Ragazzi Io Allora Non c'è comunicazione Da parte della Juventus Non c'è proprio Comunicazione Perché ripeto La società È assente Non vedi mai Uno Un 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 Scaravino Un calvo Un ferrero Che vengono avanti Ai microfoni A parlare Della situazione Della Juventus No Perché 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 Allora Della Juventus Non frega Assolutamente Niente Ok Perché Se no Se avessero Avuto A cuore La Juventus Sarebbero venuti qua E spiegare La situazione Poi posso capire Anche che Non vogliono Mettere in cattiva luce Il G-Medical Perché Voi dite Perché Perché Non è possibile Che tu mi dici Vediamo Caso Nico González Lieve Infortunio Niente di grave Rientrerà a breve E sono Due mesi e mezzo Che sta fuori Due mesi e mezzo Per un Infortunio Non grave Di lieve Entità Douglas Luiz Due mesi e mezzo Due mesi Sta fuori Perché Si è fatto male Nell'iscaldamento Pre Lazio Juventus E cose Da due mesi Aziz Che ha fatto Tre infortuni In tre mesi Niente Ritorna Si fa male Ritorna Si fa male Vlaovic Ovviamente Avendo giocato Tutte le partite Sappiamo tutti Che non sarebbe dovuto Andare in Serbia Lo dicevamo tutti E guarda a caso È successo Quello che Noi ci aspettavamo Che noi pensavamo Che fosse successo Infatti è successo Però Vorrei capire Una cosa Perché C'è Il giocatore Scalvini Scalvini No Salvini Scalvini Dell'Atalanta Che per una Rottura Del legamento Crociato È rientrato In campo E ha giocato Dopo 173 giorni Sono 5-5 mesi E mezzo Voi Fate L'affronto Questo per un Legamento Crociato Che ci vogliono Minimo 6 mesi Minimo Ma minimo 6 mesi Per riprendere Tutto quanto La muscolatura Fare tutto quanto Andare in campo Ci vogliono Minimo 6 mesi Minimo Ok Guarda a caso Lui C'è questo 5 mesi e mezzo Già dentro Ma Fate il raffronto Anche il rapporto Legamento Crociato 5 mesi e mezzo Torna in campo Lieve Il fortuno Di lieve Entità Due mesi e mezzo Ancora non si vede Ragazzi Io non lo so O stanno mentendo Stanno mentendo A questo punto Non lo so Il motivo Poi per cui Mentire Perché se no Non si Non si Non si può Capire Il problema Che dopo Due mesi e mezzo Ancora tu Non puoi entrare Per una lieve Entità Poi Di Nico Gonzales Si parla Che aveva Precedenti Infortuni Portati Dalla Fiorentina E quindi Onde evitare Una ricaduta Vogliono essere Certi Ma quando tu hai fatto Le visite mediche A giugno Lui O agosto Non so quando hai fatto Le visite mediche L'avrai visto Se era idoneo O non idoneo Ok Perché non è possibile Che poi dopo Due mesi Di inizio campionato Ci sono altri Due mesi e mezzo Che non gioca Quindi O Quando hai fatto Le visite mediche Non hai visto niente Quindi È una cazzata Che si porta Di veri infortuni Dalla Fiorentina Oppure Quando hai fatto Le visite mediche Tu l'hai visto E invece di farlo Debutare più tardi Si 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 Può andare in campo Stare bene E infatti È ricaduta Adice Ragazzi Non lo so Non lo so Cosa è successo Questo giorno Ragazzi Penso che A questo punto Lasci il calcio Perché no A partire scherzi Perché Dai Tre mesi Tre infortuni Non è possibile Poi ci mettiamo Blau Ci mettiamoci McKennie Douglas Lewis E poi Sapete Savona Cabal E Bremer Abbiamo ragazzi Se non sbaglio Mi sembra Tre giocatori Per reparto Tolti i portieri Perché abbiamo Savona Bremer Cabal Abbiamo Niko González Abbiamo Douglas Lewis McKennie McKennie Fortunati La Stone Villa Senza Savona E appunto Su una fascia Sull'esterno Di sinistra Di difesa Ci metterà Di destra Di difesa Ci metterà Danilo Perché poi Non abbiamo Altri giocatori Ragazzi Non abbiamo Altri giocatori Non lo so Ragazzi Fatemi sapere Ragazzi Voi cosa ne pensate Di Questo Rapporto Tra Scalvini E i nostri giocatori C'è un divario Ragazzi Pazzesco O Gemedica Non sa lavorare O stanno mentendo O non so Altro che Pensare Ragazzi Io Vedere una partita Domenica Contro il Lecce In Emergenza Mi fa venire I brividi Quindi ragazzi Mettete sotto I vostri commenti Dite voi Cosa ne pensate Mettete un like Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E come sempre ragazzi Fino alla fine Forza di Juventus Ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao